Finiscono nei guai due medici dell'ospedale di Battipaia per la morte della paziente di 54 anni Giuseppina Lozza, venuta a mancare nel maggio del 2022 per vicende che hanno dell'assurdo. La donna ha atteso di essere visitata in ambulanza per 5 ore. Guido Germano Dattoli e Gemma da Campora andranno a giudizio, due medici, il prossimo anno con l'accusa di cooperazione in responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. Il primo in qualità di medico del 118, la seconda come medico operante presso il pronto soccorso del Santa Maria della Speranza. Secondo il rapporto dei carabinieri della locale stazione, inquirenti nel caso, i due dottori hanno posto in essere una condotta produttiva dell'evento per colpa consistita in negligenza e in prudenza di imperizia e contribuivano a cagionare la morte della paziente. Il tutto è avvenuto tra il pomeriggio e la sera del 12 maggio di due anni fa, a cominciare dalle 16 e fino poco prima delle 22 quando poi è sopraggiunta la morte. La donna denunziava forti dolori e Dattoli con visita domiciliare non avrebbe ottemperato a tutti i doveri sanitari, così come la dottoressa da Campora che avrebbe lasciato la donna sul mezzo, l'ambulanza, senza richiedere esami per risalire alla fonte del forte dolore addominale. Secondo i medici legali che hanno effettuato l'esame otoptico sul corpo della donna, sarebbe bastata una semplice radiografia per individuare una lama all'interno dell'addome della defunta. Così facendo, Giuseppina Lozza non sarebbe morta in quelle circostanze. Saranno i giudici adesso della Camera Penale Salernitana a dire la loro e giudicare la condotta dei due sanitari dell'ospedale battipagliese.